Diminuiscono i contagi ma anche i test effettuati in Abruzzo dove oggi sono solo 15 nuovi positivi di età compresa tra i 17 e i 73 anni che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.550. Il numero più basso di contagi va considerato però anche in relazione a quello dei test con soli 876 tamponi molecolari e 638 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è comunque più basso rispetto a quello dei giorni scorsi e scende a 0,9% tornando così sotto l'1%. Il bilancio dei pazienti deceduti soprattutto non ha registrato fortunatamente neanche oggi nuovi casi e resta fermo a 2.518. Aumentano anche i guariti che sono 41 in più e salgono complessivamente a 73.026 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo diminuiscono così di 26 unità e scendono a 2.006. Continua ad aumentare però il numero dei pazienti 61 ricoverati in area medica con un preoccupante più 5 rispetto a ieri e resta invariato quello dei pazienti in terapia intensiva fermo a 5 e comunque più alto rispetto alle scorse settimane mentre diminuiscono di 31 unità i pazienti in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL che sono 31 in meno e scendono a 1940. Dei nuovi casi positivi 12 si registrano in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo.